All'Italia a che punto siamo? Sembra esserci ancora in campo l'offerta Lufthansa anche se sconta il fatto che loro di esuberi non ne vogliono sapere, cioè è una questione che deve riguardare l'Italia, se la veda lei poi se loro si prendono l'azienda ripulita. A che punto siamo? All'Italia siamo a questo punto, noi abbiamo fatto un prestito ponte come è noto che nell'insieme vale 900 milioni che per fortuna in questo momento è intonso perché i commissari hanno lavorato bene, hanno tagliato molti costi e quindi la situazione è stabile. Però l'Italia non ce la fa da sola perché basta un aumento del prezzo del carburante o anche semplicemente entrare nella bassa stagione, cosa che succederà adesso, e si bruciano soldi. Quindi abbiamo bisogno che questa storia di El'Italia trovi una conclusione. Noi oggi abbiamo sul piatto tre offerte, quello che faranno i commissari proprio in queste prime settimane, già immagino alla fine di questa e all'inizio della prossima, è dire e fare una valutazione su quale di queste offerte è la migliore e quindi con chi si può iniziare a fare una negoziazione in esclusiva. Dopodiché la negoziazione in esclusiva riguarderà esuberi costi per lo Stato e ovviamente la validità di un progetto industriale dal punto di vista soprattutto delle connessioni aeree. Oggi a noi quello che interessa è avere come italiani... Lei non ha preferenze, Ministro? No, io non ho preferenze. Per me la questione è molto oggettiva. Si basa sui numeri e la valutazione sarà fatta sui numeri.